Buongiorno e benvenuti a questa zuppa di oggi. Come vedete sono in una location favolosa, in una libreria privata qua a Napoli di un mio amico. Riservatezza totale. Non si dice chi è, ma quello che si dice è quello che è successo oggi sui giornali che anche a Napoli ho letto con attenzione per la vostra zuppa. Ovviamente oggi il tema fondamentale è la battuta che ha fatto il Presidente della Camera FICO, che tutti quanti i giornali hanno ripreso, sul fatto che non è andata male la conversazione, il tentativo di accordo, di dialogo con il PD da parte del Movimento 5 Stelle. Non è andato male perché dice c'è qualche spiraglio. Gli spiragli in realtà non ci sono perché fino a quando non ci sarà la direzione del 3 maggio, perché quello è un partito organizzato con le direzioni, gli organi consultivi, non si potrà dire se questo accordo c'è ed è più o meno forte. Io vi dico subito come la penso, indipendentemente da quello che leggo su tutti quanti i giornali oggi, questo accordo non ci sarà. L'idea di vedere un governo in cui sfilano Renzi, Franceschini, Minniti, Gentiloni, insomma questo genere di persone accanto a Taverna, Di Battista, no Di Battista non si fa, no proprio politica, ma voi veramente credete che si possano mettere insieme? Oggi tutti quanti i giornali ricordano, perché vanno a vedere insomma quello che succede nelle cosiddette basi, come il PD, la base del PD non ci stia e come la base del Movimento 5 Stelle sia altrettanto fredda per questo accordo. Soltanto il portavoce, lo strillone del Movimento 5 Stelle oggi viene a trovare, cioè il Fatto Quotidiano e Travaglio hanno un'ideuzza e qual è l'ideuzza? I giovani del PD sono d'accordo alla intesa tra il Movimento 5 Stelle, beati loro che riescono a conoscere i giovani del PD. Cosa succede? Beh ci sono due ipotesi oggi sui giornali secondo me più verosimili, alcuni giornali fanno finta di credere che questo accordo si possa fare, altri giornali secondo me in maniera più, come possiamo dire, razionale hanno due scenari diversi. Quello della stampa è il titolo della stampa, Salvini pronto ad abbandonare il Cavaliere. Sta aspettando l'esito delle elezioni regionali in Friuli, Venezia e Giulia dove si prevede che Fedriga, un suo uomo, vada molto bene e a quel punto si ritorna a cavallo con il Movimento 5 Stelle. Che cosa avrebbe fatto Salvini? Avrebbe fatto provare a fare il PD? Avrebbe preso tempo, avrebbe guadagnato posizioni in Friuli, Venezia e Giulia e forte di questa situazione e forte di una rottura dopo il 3 maggio col PD? I tempi si sarebbero perfettamente chiusi per un accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle che mi sembra l'unica cosa su cui stanno lavorando in tanti e poi vi do un piccolo segnale di questa cosa. Seconda invece versione, i quirlianisti oggi la mettono in evidenza, lo fa il Corriere della Sera con Breda ma non soltanto gli altri cioè che in realtà il Parlamento potrebbe fare un cambiamento di legge elettorale mentre il governo per i fatti ordinari potrebbe continuare Gentiloni. Quindi un doppio binario, non si riesce ad avere un nuovo governo, quindi Gentiloni fa l'ordinaria amministrazione, scrive Breda sul Corriere della Sera, nel frattempo il Parlamento si mette d'accordo per fare una nuova legge elettorale perché con questa non si può andare di nuovo al voto. Ma perché dicevo che ci sono piccoli pezzettini di prova che fanno pensare che tra Movimento 5 Stelle e Lega un accordo ci sia? Perché ieri Salvini dice una cosa incredibile e cioè dice il Cavaliere fa abusa delle sue televisioni, delle sue mezzi di comunicazione e ovviamente il tema oggi è stato affrontato dal giornale. Siccome io ne so qualcosa perché a parte questa zuppa che non ha editori, se non Facebook che non mi rompe mai le balle su quello che dico ma sono un vice direttore del giornale e lavoro in questi anni, negli ultimi due anni ho lavorato per Mediaset, questa idea di Di Maio, di ieri, e cioè che le televisioni di Mediaset avrebbero fatto velate minacce a Salvini, io dico dove cacchio se l'è inventata? Non esiste! Alla ultima stessa puntata, la settimana scorsa, Matrix ha cercato di chiamare Salvini che legittimamente, siccome a tanti impegni non è venuto, abbiamo chiamato Fedriga così come abbiamo chiamato tante persone del Movimento 5 Stelle che non sono venute perché evidentemente non volevano venire, legittimamente è venuto Toninelli, ma perché il leader del Movimento 5 Stelle si preoccupa di un'eventuale minaccia da parte delle televisioni Mediaset nei confronti di Salvini? Che tipo di messaggio è quello se non una specie di grande amore non corrisposto per il momento da parte del Movimento 5 Stelle per Salvini, posto che non è Salvini essersi lamentato delle velate minacce delle televisioni Mediaset? E ancora, chi sono questi conduttori e questi giornalisti di Mediaset che avrebbero minacciato Salvini? Nomi e cognomi! Perché per quanto mi riguarda, e faccio un programma direi di informazione sul Canale 5 che è la rete principale di Mediaset e per quanto mi riguarda vedo del debio che ha invitato Salvini più volte, una puntata c'ero anch'io, non riesco a capire dove cazzarola sono arrivate queste minacce che peraltro non denuncia Salvini ma Di Maio. vi rendete conto di che cosa stiamo parlando? Poi dice in funzione di questo si deve fare una legge sul conflitto di interessi e questa è una di quelle cose che piace tanto agli odiatori seriali del Cavaliere che ritornano a galla spesso. Seconda di questo ve ne ho parlato con dettaglio. Altre due cose vi segnalo in giornali che sono un po' scarichi oggi, forse siamo tutti quanti un po' in vacanza. Io a Napoli me la sto godendo moltissimo. L'altra cosa che mi è piaciuta moltissimo, il mattino ovviamente ci apre ma non solo il mattino il giornale di Napoli, è l'arresto di questo giovane ganese che voleva fare un attentato a Napoli attraverso lo strumento con cui spesso l'Isis ha fatto attentati in giro per Europa, cioè un camion lanciato contro la folla affittato con i criteri tipici degli attentati solitari. Ma che solitari non sono? Perché sono coordinati da una rete dell'Isis internazionale, una specie franchising dell'Isis per cui si uccide in varie parti d'Italia. Però perché questa vicenda interessante? Primo, è stata svelata dai servizi segreti spagnoli che hanno avvertito quelli italiani che hanno arrestato questo energumeno. Secondo, questo signore è venuto in Italia attraverso i barconi, quindi quella cazzata che il PD ha raccontato per anni e non solo il PD, organizzazioni non governative, tutta quella gente lì e cioè che i terroristi, i potenziali terroristi non venissero qua con i barconi, non era una balla, era una gigantesca balla. Quando Renzi dice di aver perso le elezioni per tanti motivi, perché noi siamo forse dei populisti, forse non ha capito che la gente ha capito meglio di lui il rischio dell'immigrazione. Il caso di oggi non dimostra nulla se non una cosa e cioè che il rischio di avere persone senza arte né parte in questo paese che arrivano senza lavoro, senza documenti, senza una tradizione, senza voglia di capire che cosa vengono a fare, è un pericolo e tra di loro ci possono essere i potenziali terroristi. Seconda cosa che abbiamo capito, questo signore è stato arrestato fuori dalla moschea di Pozzuoli, fuori da una moschea regolare, fuori dalla preghiera del venerdì. Il fatto che le moschee restino e comunque possono essere un rischio e che all'interno delle moschee non c'è la necessario controllo da parte dei loro corregioni, coloro che hanno la stessa religione, è un fatto, è un fatto. L'abbiamo scoperto questo signore, sapete perché l'abbiamo scoperto? Perché ha fatto quattro video di cui uno di giuramento in arabo all'Isis, l'hanno scoperto gli spagnoli, poi sono arrivati gli italiani che l'hanno arrestato e se lo sono bevuto e bene hanno fatto. Allora mi chiedo, questa zona grigia di suoi amici vicini a lui, perché non l'ha denunciato prima? Perché l'abbiamo trovato attraverso i servizi segreti spagnoli, nonostante quella non fosse una di quelle moschee sotto casa, diciamo abusive, fosse una moschee? Allora mi chiedo e vi chiedo, correggio, qualcuno di voi mi sta aiutando a parlare ma non ci riusciamo neanche in tre. Allora mi chiedo, questo fatto dimostra tante cose, per fortuna che l'abbiamo sventato, ma in realtà il numero sempre più eccessivo di persone non regolari sul nostro territorio è un problema, non si tratta di percezione, si tratta di realtà. Terza notizia della giornata, molto particolare, divertente nel suo piccolo, è Fabio Pavesi oggi sulla verità, il giornale di Belpietro, che ci svela come Bolloré, l'uomo che ha cercato di scalare Telecom, l'uomo che ha scalato Telecom, l'uomo che ha cercato di scalare Mediaset, l'uomo che ha scalato e ha cercato di scalare Mediobanca e quindi le generali, in realtà controlla un impero di 24 miliardi di euro, vivondì e non solo, attraverso una piccola holding familiare, un vecchio sistema che si sarebbe definito di scatole cinesi all'italiana, quindi attraverso una holding che ha un patrimonio di 180 milioni, controlla un impero da 24 miliardi, segreti della finanza all'europea, quando si parla di finanze, queste sono le robe incredibili, non tanto il fatto che ci siano i derivati e che ci si possa proteggere rispetto ai rischi di mercato, straordinario, oggi Maurizio Crippa sul foglio, leggetelo, ritorno bomba sulla politica, che ci racconta di Pif, l'uomo che vuole, l'attore, non so come definirlo, io so che è uno che faceva la pubblicità alla Falconieri, mi sembra un'azienda di abiti, e alla Tim, questo signore che fa la pubblicità alla Tim alla Falconieri è diventato il casalino dell'antimafia, ci racconta Maurizio Crozza, e Maurizio Crozza è Maurizio Crippa sul foglio, pezzo da leggere gustosissimo, in cui racconta come i nuovi intellettuali che vogliono l'accordo PD e Movimento 5 Stelle siano in realtà la nuova classe dirigente, i metram pensè del nostro futuro. Direi che per oggi è basta, anche perché io voglio andarmi a vedere i vulcani qui vicino, ma non solo, le straordinarie bellezze di Napoli, quindi un grande saluto a tutti voi, condividete questa zuppa, oggi niente radio, siamo in totale vacanza e ovviamente sul sito nicolaporro.it qualche commento in più, tra cui quell'ignobile esecuzione e quell'ignobile processo educativo, per cui dei bambini sono stati invitati a prendere a bastonate una sagoma di mussolini nel giorno della liberazione, il 25 aprile a Macerata. Di questo e di tanto altro sul sito nicolaporro.it, se vi piace questa zuppa condividete, ciao!